Novità e buone notizie per Banca Macerata. Ci sono new entry nel CDA, prossima apertura in vista, tra cui nel capoluogo di regione, e il bilancio 2023 con segno più. Una banca che per molti aspetti è in controtendenza sui numeri. L'anno si è chiuso con un utile lordo di oltre 3 milioni di euro e netto di 2,1 milioni. Durante la recente assemblea ordinaria degli azionisti è stata inoltre approvata la distribuzione di un dividendo pari all'1,41% del capitale sociale. I soci totali sono 850, 80 i dipendenti, di cui 44 donne e 36 uomini. Una dozzina sono invece consulenti. Nel biennio 2022-23 la banca ha aperto 2.500 nuovi rapporti. Per noi, per una banca delle nostre dimensioni, è un risultato veramente importante. È anche il segno della pervasività e dell'apprezzamento di cui gode la banca nel suo territorio. Quindi clientela in crescita e quindi massima soddisfazione. Il nuovo consiglio di amministrazione vede 4 conferme e 5 nuovi nomi. Tutto il lavoro è proiettato al futuro. Però avendo un obiettivo chiaro, una mission chiara, una vision chiara, che è quella di rimanere ancorati alla nostra tradizione di banca locale al servizio del territorio, è volta a creare valore aggiunto per tutto il territorio, per gli azionisti, dipendenti, collaboratori, ma per l'intera comunità. Questa deve essere la mission a cui tutti dobbiamo essere legati, vecchi e nuovi e quelli che verranno. Come chiarito nero su bianco, sin da subito dal fondatore e presidente onorario della banca, Loris Tartuferi. Il tassello sempre più corposo è quello della sostenibilità, che sarà al centro del lavoro della neo vicepresidente Michela Sopranzi. Il tema ESG oggi è imprescindibile per le aziende. Non si può parlare di crescita profittevole se non inquadrata nell'ambito più complesso della sostenibilità. Oggi fare profitti significa non soltanto guardare agli aspetti economico-finanziari, ma soprattutto agli impatti ambientali, sociali e di governance.